All'alba, gli agenti della squadra mobile di Benevento, coadiuvati dal reparto prevenzione crimine e a un'unità cinofila di Napoli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari e messa in data a 7 gennaio 2020 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA della Procura della Repubblica nei confronti di 10 soggetti, alcuni dei quali ritenuti i promotori affiliati o strettamente contigui al clan Sparandeo operante a Benevento. Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività d'indagine iniziata nei primi mesi del 2017 sulla base di importanti elementi investigativi raccolti dalla Polizia Giudiziaria sul controllo delle attività economiche della zona, poste in essere da numerosi affiliati all'associazione criminale facente capo alla famiglia Sparandeo. In particolare il gruppo criminale imponeva dei pagamenti alle imprese commerciali locali ed era coinvolto nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti. L'articolo 416 bis è stato riconosciuto nei confronti di Corrado Sparandeo, detto zio o Pinocchio, classe 57, Carmine Morelli, detto Carminuccio o Zingaro o Lo Zingaro e Vincenzo o Poccetti per aver preso parte all'associazione di tipo mafioso denominata clan Sparandeo, operante sul territorio della provincia di Benevento in cui è stabilmente radicata. Oltre alla commissione di delitti contro il patrimonio, danneggiamenti anche mediante l'uso di esplosivi e reati in materia di stupefacenti, il gruppo gestiva il parcheggio nei pressi dello stadio comunale di Benevento Vigorito, imponendo la riscossione delle somme di denaro senza alcun titolo dai parcheggiatori, siano essi abusivi che irregolari. In particolare Corrado Sparandeo, al fine di affermare e mantenere il controllo egemonico sul territorio, curava personalmente ed esclusivamente anche mediante reciproci accordi i rapporti con clan napoletani e limitrofi come Montesarchio. Ha rafforzato i legami con esponenti locali nell'imprenditoria al fine di consolidare il controllo del territorio. Nell'ambito dell'attività estorsiva hanno rivestito un ruolo rilevante Corrado Sparandeo, detto zio, o Pinocchio, quale mandante, Carmine Morelli, detto Carminuccio o Zingaro, lo Zingaro, quale mandante ed esecutore, che coordinava le attività estorsive, rapportandosi direttamente con il capo clan Vincenzo Poccetti, classe 74, Stanislao Sparandeo, detto Sillano o Calvin Klein, Luigi Coviello, Gabriele De Luca, con violenza e minacce, sia esplicite che implicite, costringevano gli imprenditori a pagare in più un tranche il pizzo. Luigi Coviello addirittura per un paio di mesi è stato assunto all'interno di una delle società coinvolte al fine di fornire al capo clan Corrado Sparandeo informazioni in ordine all'entità economica dei lavori posti in essere dell'imprenditore al fine di quantificare le richieste di pizzo. Questa è una risposta che siamo riusciti a dare a conclusione di un'indagine partita nel 2017 coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che ci ha supportato in tutti i passaggi dell'attività investigativa. Quindi è una bella risposta che si è riusciti a dare alla città di Benevento. È stato di fatto decapitato uno dei clan storici di questa realtà, quindi speriamo e siamo convinti di aver dato una bella risposta. Le operazioni si sono svolte senza particolari problemi, senza intoppi, quindi tutto è andato per il verso giusto e siamo contenti anche di questo. Ma io non mi sbilancerei molto, Benevento è comunque una città, è una realtà tranquilla rispetto alle altre realtà campane, ma noi non abbassiamo mai la guardia e quindi siamo sempre all'irta.